Alle 5? Eh, neanche mi ha fatto cagare, ero lì! Nooo, adesso riesco a vincere anche tutto il piano! Bozi, ma cosa c'hai da cagare? Non ho detto che non ho lasciato niente cagare! Eh, ostia! Cazzo, com'è che è tardi? Yeah, Rozi, è qua che ci aspettiamo! Franceschino, cambietti la maglietta, subito! Ciao, ciao, ciao! No, dove l'hai messa la maglietta? E ieri scelto, ho fatto una dimenticanza, cazzo, ho dimenticato la saccaide! Dove che metto? Aspetta, Gui! Pierangelo! Ecco là, ecco l'olà! L'ultimo sempre ritardatario! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, dov'è il nono? Nono? Il nonno? Il nonno! Vabbè che è il portamare! È rimasto tutto dentro! Vai! Comunque sempre dire no, perché noi alle cinque, già qua che lavoriamo, carichiamo, non c'è nessuno! Arriva alle cinque e mezza, non c'è nessuno! Guido, visto da dietro, c'è un rimagro questa maglietta! C'è davanti! C'è davanti! C'è davanti! C'è davanti! Ma vuoi fare una foto bella? C'è una foto o... Questo puoi video? Oh! Fate qualcosa di più deciso! Dove è Pierangelo? Pier ti piacciono anche gli uccelli? No c'è davanti? Fai già davanti! Vabbè che ci voglia! Hai ragazzi! Ti accoucho! C'è davanti! E che va bene! No! Ti accoucho! Poko a tutti! Adesso è un giro con il giro! Vabbiamo! Come già! Vabbiamo! 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 Ciao Michele, sei sempre il migliore? No, racconta un po' come sta andando la tua giornata Bellissimo, arti dei colombini Ma stamattina hai fatto tardi in te o un posto? Posti, posti, da ancora due minuti rimaneva a casa O passavo con cura da qui Da di un bacino Da di un bacino Ero testimone e gli hai detto le 7.20 E invece di dare le 5 Ho messo in ansia